Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre in video seguimi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch e anche nel mio gruppo Tengram per stare sempre aggiornati. Tutti i link come al solito li trovate qui sotto in descrizione. Oggi andrò a fare la recensione di Tekkon Cricket di Taiyo Matsumoto, questo è l'Omnibus, prezzo 25 euro, edito da J-Pop, un bello cartonato, faccio giusto vedere i disegni anche. Quindi è un manga autoconclusivo ovviamente, questa edizione perlomeno. È un manga del 1993-1994, allora partiamo in questi due ragazzini, Shiro e Kuro, soprannominati gatti, proprio perché sono molto agili. Shiro, che per chi non sa il giapponese vuol dire bianco, sa contare fino a 10, inventa sempre canzoncine, spera sempre in un domani migliore, mentre Kuro, che vuol dire nero, fa anche questa contrapposizione tra bianco e nero, pensa molto, sa molte cose di questa città, di questo quartiere, pensa soprattutto a proteggere Shiro, perché sa che è un posto davvero pericoloso e bisogna comunque sapersi fare valere. Questi ragazzi non hanno genitori, vivono in una macchina e hanno il sogno comunque di comprare una casa sul mare. Sono in un quartiere, tacarancio, in un quartiere di una città immaginaria, sospesa tra passato e futuro, non è una locazione storica ben definita. Sono per l'appunto però i difensori di questo quartiere, perché lo considerano di loro proprietà e portano una violenza che non ti aspetteresti dai ragazzini di quell'età, un po' diciamo un po' come Akira in qualche modo, anche se molto la lontana, e sanno letteralmente volare tra un palazzo e l'altro. E quindi dall'alto di questa visione, che hanno una visione diversa, da quale potrebbero avere le persone comuni che stanno sempre in basso e guardano in basso, hanno una visione complementare a questo quartiere e sanno intervenire dove serve, corrisse, sono sprezzanti, non hanno paura di niente, questo quartiere che è fomentato da risse e spazzatura. Ci sono Yakuza, in particolar modo topo, soprannomenato topo, in particolar modo uno chiamato serpente, che vuole portare in questo quartiere una sala giochi e stravolgere questo quartiere fregandonesene degli altri, degli abitanti, e volendo comandare in questo quartiere, quando in realtà i gatti, loro, sia Shiro che Kuro, vogliono in realtà, lo considerano come loro e quindi non vogliono intromissioni esterne, loro che non sono mai usciti da queste quartiere, conoscono solo questo quartiere, lo considerano un po' il loro giardino, un po' il loro parco di divertimenti, e non si fanno mai mettere in piedi in testa tra nessuno. Loro due, tra l'altro, vivono in un precario equilibrio, che si vedrà più avanti quando viene spezzato, cosa può portare, un po' in effetti anche come Akira, anche questa tematica, un po' alla lontana sempre, che sono complementari uno dall'altro, uno più calmo e posato, l'altro più determinato, crudele, violento, ma tutto al fine di proteggere, soprattutto Shiro e proteggere il proprio quartiere, non esita a sporcarsi le mani, e fa un po' male vedere questi ragazzini, lasciati soli e abbandonati dalla società, costretti a sopravvivere da soli. Qua vediamo infatti la tematica dei sogni dell'infanzia, rispetto alla mediocriticità della vita degli adulti, gli adulti vivono una vita basata su certi canoni, tutti i giorni sono uguali, probabilmente i bambini sognano sempre in grande, di fare sempre avventure, di realizzare i propri sogni, e si scontrano spesso con la realtà del mondo degli adulti. Poi il desiderio anche un po' di lasciarsi tutto alle spalle, anche i fatti brutti della propria infanzia, mai stati abbandonati perché non c'è da sapere, però sono sette editori, e vivere in maniera spensierata guardando con positività il futuro, ma soprattutto godendosi la giornata. C'è anche i cambiamenti al mondo, però appunto a opera di questo Yakuza che vuole cambiare il loro giardino, il loro quartiere, e renderlo diverso, e loro non ci stanno, e proprio l'incapacità di molti di capire questi cambiamenti, di cambiare i propri in modo molto veloce. Un po' anche tematiche molto moderne, in effetti, come l'ambiente sta cambiando, le condizioni climatiche stanno cambiando, e l'uomo non riesce ad adattarsi, guerre, che il covid ha influito, quindi cambiamenti molto rapidi, perché in effetti è successo in modo molto rapido, e bisogna sapersi adattare in fretta a questi cambiamenti, soprattutto capirli, e non è sempre facile in effetti, come ho già accennato c'è anche ricerca di questo equilibrio soprattutto mentale tra i due ragazzini, ma soprattutto forse quello che mi ha toccato di più, l'importanza dei legami rispetto alla famiglia tradizionale, perché non c'è da sapere se in effetti sono due fratelli di sangue o no, visto che tra l'altro hanno il loro miglior amico, che è un sezzatetto, un ex Yakuza, che è un po' cieco, non vedete molto bene, però sono davvero amici, soprattutto ha aiutato Kuro a crescere, a capire le difficoltà, l'avversità della vita, gli ha dato molti molti consigli a riguardo, che il ragazzino ha fatto proprio, e se è così, se vive così, grazie anche questa persona, e quindi si vedono molti legami extra familiari, e questo secondo me è la tematica più importante, soprattutto in questo mondo, in questo momento, che comunque bisogna sempre, bisogna dare sempre una mano all'altro, anche se magari non si ha un legame di sangue, ma soprattutto l'accoglienza, questi giorni si vediamo, l'accoglienza dei profughi che scappano dalla guerra, eccetera, quindi l'accoglienza agli altri, aiutare gli altri, e l'importanza appunto di questi legami, che inevitabilmente si andranno a creare, che non sono semplicemente legami di sangue, ma anzi a volte legami che non sono di sangue, sono più forti di quelli, è una tematica che mi è abbastanza cara, in effetti abbiamo avuto anche un passato abbastanza, non dico tragico, però un po' difficile, però non voglio dire altro, e quindi molte tematiche molto profonde, che l'autore Taiyo Matsumoto riesce a far capire, a incentrare molto bene in questo manga, che comunque alla fine è una onnibus, però è un manga unico questo adesso, e quindi in poche pagine ti fa capire molto molto bene certe tematiche, aiuta l'ettore a soffermarsi in certe tematiche, a pensarci, a riflettere, e capire un po' anche della propria vita dove sta andando, se aveva dei sogni da bambino che poi è abbandonato, e si accontenta di vivere la giornata. i disegni molto particolari, diciamo così, molto molto particolari, in effetti, alcuni posso piacere, alcuni meno, però diciamo, però su cui per me sono adatti a questo tipo di contesto, guardate qua che disegni comunque, vi faccio vedere, io predico comunque uno stile di disegno diverso, più realistico, devo dire, ma fa capire molto il contesto, devo dire che è un manga molto crudo e spietato per certi versi, soprattutto se ci pensi che sono dei ragazzini abbandonati a se stessi, che per forza di cosa, al caso di forza maggiore, sono obbligati a rimboccarsi le maniche, entrare a piene mani in questo mondo di violenza, e farla propria, dominarla, e non farsi mettere i piedi in testa, e poi appunto considerano questo quartiere come casa loro, il loro giardino, e vogliono dettare legge, e in qualche modo le loro parole leggi si scontrano con criminali, gli accusa, e quindi non hanno proprio paura di niente, affrontano diverse, davvero diverse, tante difficoltà, si scontrano spesso col mondo crudo degli adulti, è un buon manga, un ottimo manga in effetti, e consiglio la lettura a tutti, soprattutto adesso che ho appena fatto la ristampa di questa Omnibus, che secondo me il prezzo ne vale la pena, perché è bello cartonato, tre volumi in uno alla fine, perché l'opera di genere sono tre volumi, tra l'altro c'è il segnalibro, un segnalibro alla fine di cordicina, super apprezzato devo dire, guardate che, con un bellissimo formato, ottimo direi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina, noi ci vediamo ai prossimi video, . Grazie a tutti.